Un grave lutto ha colpito la trasmissione Uomini e Donne, è morta la storica opinionista del dating show, Paola D'Andrea. Se l'è portata via un brutto male, così è morta Paola D'Andrea, un volto che è entrato negli anni nelle case degli italiani. La donna era infatti una storica presenza del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. L'abbiamo vista per la prima volta tra il pubblico parlante addirittura nel 1997. Da allora e per molte edizioni davvero ha fatto parte del cast del programma condotto da Maria De Filippi. Su Instagram, nelle scorse ore, è arrivata la tragica notizia, peraltro a poche settimane da quella della morte dell'ex tronista Manuel Vallicella. Un'altra presenza storica del programma, dunque, non c'è più. La notizia della morte della donna è stata data da un'altra ex protagonista di Uomini e Donne, Rosa Chiarelli. Rosa Chiarelli, infatti, su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Paola D'Andrea, iconica presenza di Uomini e Donne, ma soprattutto sua amica. Subito in tanti hanno chiesto delucidazioni rispetto a quanto accaduto. Così, è stata resa nota la causa del decesso della donna, morta a causa di un male inguaribile. Una lotta che non le ha lasciato scampo, per lei che viene ricordata come coriacea e combattiva presenza per ben 15 anni nella trasmissione condotta da Maria De Filippi. Perché se è vero che Paola D'Andrea era diventato ormai un volto storico del programma, è altrettanto vero che vi mancava addirittura da 10 anni. Nel 2012, la scelta di lasciare la trasmissione